La mia testa E adesso? Adesso scoprirai che cosa devi fare. In vita tua non sei mai arretrato di fronte a nulla. Anche quando avresti dovuto. Ti muovi per Night City sapendo che un proiettile vagante potrebbe ucciderti mentre prendi un taxi. Ma questo non ti ha mai impedito di agire? Credi di aver ingannato la morte? È la morte che ha ingannato te. Se devi uccidere, uccidi. Se devi radere al suolo il mondo, fallo. Nella lei! A merra, coglione, non muoviti! Fuori da casa mia! Subito! Preferiresti vivere come un signor nessuno? Oppure scrivere la storia? Ciao a tutti, sono RHD Gaming e oggi esploreremo a fondo il mondo di Cyberpunk 2077. Parliamo della storia di questo avvincente gioco, analizzeremo le nuove meccaniche introdotte nell'ultimo aggiornamento 2.0 e discuteremo anche del tanto atteso DLC. Preparatevi per un'immersione totale in Night City. Dopo un lancio controverso, Cyberpunk 2077 di City Project Red ha subito una trasformazione epocale grazie all'aggiornamento 2.0 e dal nuovo DLC, Phantom Liberty. In questa recensione esamineremo come queste aggiunte abbiano influenzato l'esperienza di gioco e se Night City finalmente è diventata la metropoli futuristica che noi tutti speravamo. L'aggiornamento 2.0 apporta significative migliorie grafiche. Night City ora brilla di vita, con dettagli più nitidi, ombre più realistiche e una maggior densità di traffico. Tuttavia, su alcune piattaforme meno potenti, potrebbero emergere occasionali cali di framerate, benché la situazione sia notevolmente migliorata rispetto all'aggio. L'aggiornamento ha contribuito notevolmente a stabilizzare il gioco, riducendo drasticamente i bug e i glitch che affliggevano la versione iniziale. Le performance generali sono migliorate, ma alcuni utenti potrebbero ancora sperimentare problemi su hardware meno performanti. L'aggiornamento introduce inoltre miglioramenti sostanziali nel gameplay. Le nuove opzioni tattiche, come l'espansione delle abilità hacking e il raffinamento del sistema di combattimento, aggiungono una profondità e una varietà notevoli all'esperienza di gioco. Le missioni secondarie sono ora più coinvolgenti e offrono ulteriori opportunità di scelta e impatto sulla trama. Phantom Liberty offre una nuova e integrante avventura a Night City. La trama convolge il giocatore in una rete di intrighi politici e azioni clandestine. Tuttavia, alcune sottotrame potrebbero risultare leggermente meno sviluppate rispetto alla trama principale. La durata del DLC è soddisfacente, offrendo diverse ore di gioco. I nuovi personaggi introdotti nel DLC sono ben descritti e si inseriscono in modo incredibile nel mondo di Night City. L'ambientazione aggiunta, seppur più limitata rispetto a Night City, è ricca di dettagli e offre una nuova prospettiva all'esperienza di gioco. Inoltre, in conclusione, l'aggiornamento 2.0 e il DLC Phantom Liberty hanno trasformato Cyberpunk 2077 in un'esperienza di gioco naturalmente migliorata rispetto al suo controverso launch. Night City è ora più affascinante e coinvolgente che mai. Tuttavia, alcune aree potrebbero ancora richiedere miglioramenti e ottimizzazioni ulteriori. Con l'implementazione di futuri aggiornamenti, Cyberpunk 2077 si avvicina sempre di più al suo potenziale completo.